Buonasera a tutti, io sono Alessio e vi presenterò Parcheggio, un modo divertente e innovativo di trovare un parcheggio. Sicuramente sarà capitato a tutti voi di rimanere bloccati per secoli e secoli in attesa di trovare parcheggio, quando sicuramente avrete anche voluto spendere quel tempo in attività molto più piacevoli. Ecco, immaginate di avere a disposizione uno strumento in grado di abbattere notevolmente i tempi di ricerca e di parcheggio. Una recente ricerca di IBM, la Parking Index Research, ha mostrato che nel 30% dei casi il traffico è causato dalla ricerca di parcheggio. Il 50% dei soggetti intervistati ha dichiarato di interrompere la ricerca a causa della frustrazione acquisita nel mentre e poi ha avverso che il tempo medio di ricerca di parcheggio ammonta 35 minuti. Si tratta quindi di un problema molto importante e molto sfaccettato. Come risolverlo? La nostra idea è quella di un'applicazione mobile che suggerisce dove trovare parcheggio sulla base di indicazioni su chi sta abbandonando parcheggi in una determinata area e in un determinato tempo. E statistiche basate sull'utilizzo del sistema. Perché però un utente dovrebbe essere incentivato a dare informazioni sul proprio arrivo e sulla propria partenza in fase di parcheggio? Anzitutto questo fa parte di un'ottica di gamification per cui facendo queste segnalazioni l'utente acquisisce punti karma in grado di fornire priorità. Grazie. 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 Grazie.